Il colpaccio l'ha fatto Luciano Villa con la sua Easy Volley Desio, vincendo qui a Dalvese per 3-1 la prima di campionato. È andata bene Villa? Sì, più che bene. C'è tre punti insperati, ma dentro una partitaccia, una partita brutta, giocata male, però è una prima di campionato. Di conseguenza ci si aspettava, comunque una partita con alti e bassi, poca tecnica. Forse abbiamo vinto noi perché ci abbiamo messo forse un pochino più di cuore alla fine. Poi facciamo stare la tecnica perché è tutta da rivedere, perciò ci sarà da lavorare tanto. Noi portiamo via questi tre punti che sono d'oro per noi, perché l'obiettivo è quello di salvarsi per giocare alle ragazze giovani. Perciò stasera è andata più che bene, direi. Secondo lei, dalla sua esperienza, cosa non è andata bene invece per la Tecno Team, per la squadra di Cairoli, questa sera, dal suo punto di vista? È andata secondo me poco bene la ricezione in alcuni momenti, palleggio che è stato abbastanza falloso e la gestione nei momenti topici, abbiamo finito i set a punteggi alti e loro con giocatori esperti, perché hanno giocatori di una buona esperienza, di un buon livello, avrebbero potuto gestire un pochino meglio quei momenti lì, secondo me. Grazie.